Salve a tutti, è da troppo tempo che non mi sto facendo vedere e quindi ho deciso di apparire con un vlog. Molti miei amici, i miei giovani amici, in questo periodo non ci sono su YouTube perché la scuola sta finendo e quindi compiti in classe, tiriamo sulla materia per non andare a settembre e via di qui e via di là e... I più scaltri tra voi staranno dicendo Ma tu non vai a scuola! Esatto! Ed altri in modo sornione potrebbero dire Ah, ma tu fai il professore e allora ce l'hai anche tu la scuola, sei uno di quelli che cercano di mandare a settembre... Sbagliato! Non faccio più il professore! Quindi una terza fazione dirà Ah, non sarà mica come cane secco che poi tira fuori una serie meravigliosa... Però questi ultimi qualche ragione ce l'hanno perché sto preparando un qualcosa che non sarà da vedere su YouTube e che prossimamente, ma molto, 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 molto... Molto presto porrò alla vostra attenzione Bravo, bravo! Sì, grazie, grazie, molto, grazie Bravo, bravo, sì, 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 no, 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 lasciatemi continuare Bravo, bravo, lasciatemi continuare! Scusatemi, mi sono lasciato prendere Oggi comunque sono qui perché voglio rispondere ad alcuni di voi Ci sono alcune domande che continuate a mandarmi come messaggi privati e come... messaggi privati alle quali voglio rispondere ora Primo, il tutorial su Celtics lo farò, ve lo prometto Secondo, i video dietro la macchina continueranno, sicuramente continueranno Terzo, i trucchetti per YouTuber anche loro continueranno Ho una grande tentazione Sì, sì, perché io ho la grande tentazione di dirvi che questo video sarà molto breve e poi, come al solito, diventa lunghissimo Per cui, facciamo così Io vi dico che è molto breve Se poi è molto lungo, tornate indietro e sentite questo Sarà molto lungo questo video, va bene? Li metto tutti due Tra l'altro, devo ammettere che voi già ora sapete se è lungo o corto Per cui, penso sia stato inutile l'inciso Comunque, rispondiamo a una domanda Puoi spiegare alcuni trucchi sul montaggio? Nei video dietro la macchina, man mano che andremo avanti Arriverò anche alle lezioni sul montaggio Quindi, pazienza, ci arrivo Ci arrivo, le faccio, le faccio Un'altra domanda ricorrente che cade sotto il montaggio È questa Come si fanno a fare i commenti sui video Oppure le scritte, eccetera, eccetera Questa domanda fa parte della famiglia del montaggio Dico solo velocemente che in alcuni programmi di montaggio Basta mettere una traccia video al di sopra delle altre tracce Inserire la scritta E il gioco è fatto Ora passiamo un'altra domanda a cui risponderò Che mi state facendo in molti Come faccio a girare un dialogo con una sola telecamera? A meno che non vi troviate in televisione a lavorare O in un cinema dove ci sono grandi effetti speciali Esplosioni e via di seguito I film vengono sempre registrati con una sola telecamera o cinepresa Viene spostata man mano che si va avanti sul set E gli attori ripetono la stessa battuta più volte In modo tale che poi in montaggio si possano scegliere le parti Adatte a dare il movimento nella scena Per cui un attore tendenzialmente ripete la sua scena più volte E la telecamera viene spostata sul set Ci sono casi particolari come ho detto Tipo in televisione nella quale si usano più telecamere E c'è una regia che viene fatta al momento In sala di regia Per quanto riguarda i telefilm Tendenzialmente i telefilm che sono delle sitcom Hanno più telecamere Perché la tecnica è molto simile a quella televisiva Tutto il resto, film o telefilm che siano Si usa una sola cinepresa o telecamera Il motivo di usare una sola telecamera è questo Che ogni telecamera deve avere un operatore dietro Deve avere una persona che fa i fuochi degli obiettivi Deve avere un assistente operatore e via così Quindi i costi aumenterebbero vertiginosamente Per non parlare poi del lavoro del direttore della fotografia Perché per fare delle luci belle sugli attori o sulle cose Occorre avere delle accortezze Spostare le luci, avvicinarle, allontanarle Caso differente è quando si mettono in scena delle esplosioni vere O degli incidenti d'auto molto complessi A questo punto è molto più costoso Riprendere ogni volta e far riaccadere i disastri che ci sono in giro E quindi vengono posizionate più macchine da presa sul set E viene girato tutto contemporaneamente E poi il montaggio viene scelta la ripresa adatta a quella situazione Altra domanda Mi viene chiesto a cosa serve la giraffa o boom? Ora la giraffa è uno strumento che serve per avvicinare il microfono alla scena Mi riprometto di fare un video speciale spiegando tutte queste cose Mettendo come immagini i backstage del filmato che abbiamo fatto con Richard Htt Nel quale c'è il boom, c'è la stidicam, ci sono i polistiroli bianchi Viene usato in un certo modo il chuck che non è quello che di solito siete abituati a vedere Eccetera eccetera Così in un botto solo, in un boom solo Risponderò a tutte le vostre domande del caso Un'altra domanda che ultimamente continua ad arrivare È che mi chiedete dove posso comprare queste cose Non mi è possibile rispondervi uno per uno Perché ognuno di voi abita in una città diversa Per cui ci saranno dei negozi specializzati diversi In alcuni casi probabilmente nella vostra zona non ci sono negozi del genere Sarà bene guardare un po' su internet quali sono negozi più vicini a voi O comunque delle catene che vi possono spedire le cose Tenete presente che questi oggetti sono molto costosi E in più sono complessi da usare Però inoltre alcune di queste cose si possono fare in casa Arrangiandosi come ho fatto vedere per le luci in alcuni dei miei video Concludo questa brevissima carrellata O almeno che io percepisco come brevissima Con un'ultima richiesta È sempre nel campo del montaggio E mi viene richiesto come si facciano a realizzare video musicali Basando tutto il lavoro a partire dalla traccia audio Anziché dal video Anche questo è una specificità del montaggio E detto così su due piedi Vi posso dire che il lavoro è lo stesso Tant'è vero che nel montaggio dei film di solito Viene montato il video senza pensare all'audio Non viene ascoltato l'audio E poi viene montato l'audio Nel caso dei video musicali C'è la traccia audio che è sulla timeline E vengono montati i pezzi di video adeguati a quel momento Anche perché in alcuni momenti ci saranno dei sincroni Che devono essere mantenuti In altri ci saranno delle immagini scollegate Dalla musica o dal cantato Comunque è tutto un lavoro legato al montaggio Che vedremo prossimamente Bene, mi fermo qui per quest'oggi Aspettatevi qualcosa di molto particolare Prossimamente Anche se so che chi mi segue su Facebook Ha già avuto qualche sospetto O meglio, sa già di cosa si tratta Bene, arrivederci Ai miei visitatori che vanno ancora a scuola Un ultimo sforzo Che siamo quasi alla fine E arrivederci a presto Con questa trasversale iniziativa Oh mio Dio, ho fatto cadere il pulcino Ciao ciao, lo devo recuperare Ciao 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 Ultimamente ci sono tanti miei amichi amichi